allora entrare nel complesso non credo che sia così complesso sì sono piuttosto squallido con le battute ciao a tutti i bimbi belli bentornati sul mio canale 78esima missione di gta 4 sapete che divido sempre siamo la terza su tre per john gravelli e dopo questa missione lo saluteremo in via definitiva possiamo dire la scorsa missione ci siamo cagati addosso abbiamo rischiato anche di morire a dining out in questo ristorante cinese o coreano quello che era dove tipo una mandria di orientali ci ha salito e noi abbiamo dovuto saperci fare per spingerli a dir la verità io vi chiedo ragazzi il solito like la solita iscrizione e la solita campanella e noi andiamo con john gravelli ragazzi little jacob che vuole fra te l'ho già detto poi farai lavoretti per te tranquillo però non ora uffa questa volta il taxi non è passato e invece si è un po' ritardato ma è sempre passato cazzo ha detto ok liquidize the assets ormai ha imparato che lo deve lasciar passare of course you guys already know each other Nico good to see you interesting friendships you both keep yeah very interesting the mayor will be here in a minute and I have two senators dropping by laters everyone wants to pay homage to a dying legend everyone wants the glamour of a bygone age everyone now that you hear what I said Sì, ho sentito quello che hai detto. Niko, il nostro amico, mi ha detto che gli Anchevati sono in league con i russi. Anchevati? Io conosco questi ragazzi 73 anni. In 1972, dovrebbe essere morto il mio amico. Ma ho lo spaventato. E questo è il modo che mi repassi? È incredibile! E ora si stia le drogze con Ivan, il vero terribile! Cosa diciamo è che questo è un mattere di sicurezza, nazionale. Normalmente non mi preoccupi di coca, guarda le persone in potenza, ma questo non è nulla. Allora, qual è il mio ruolo in questo? Il nostro network di distribuzione è una squadra di vans in un'alleggiata in Alderney City. Il prodotto è pieno di strumenti di vans, preparato per essere trasportati all'interno del mondo. Destruirà tutto, qualsiasi necessitare. E per me? Per te? Ho un vero dono per te. Ho fatto questo e poi parliamo. Ok, andiamo al complesso. Però che palle! Tu taxi! Dovete anche rimanere, fratello, eh? Eccoli, 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 eccoli. VAMOSSA! Che punto siamo? Sicuramente Alderney è, per forza. Ah, perfetto, non c'è da scavalcare. Ol'altra giornata! Ol'altra giornata! Oll'altra giornata! Allora, entrare nel complesso Non credo che sia così complesso Sì Sono piuttosto squallido con le battute Però Una volta entrati E' lì il problema Allora, l'entrata sarebbe anche questa volendo Eh sì Invece no O forse, forse No Tanto fammi fare il giretto così speziono bene la cosa Che volendo potrei anche scavalcare di qui Ho cercato una via più semplice Invece mi sono dovuto Trovare a fare questo Ah, c'era già la modalità furtiva Che bello Ma c'è tipo un cecchino Oh cazzo è tutto chiuso Che cazzo passo Bonoli Bravo 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 No No Di qua Sei un campione Che tensione Allora Allora se mi ha messo la modalità furtiva Per forza Io posso uccidere furtivamente Se no Non ha senso Ok 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 In realtà volevo ucciderlo in maniera diversa però ci si accontenta Vai fuori sti qui Questi due Oh 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 380.000 colpi Ok tu fuori Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Se ci accoraggi Vieni fuori I am surrounded by what Un giupottino Un giupottino signori Addirittura qui sono andati Ciao Ok posso scendere da qui Poi non abbiamo finito prima No Vieni fuori In assoluto la mia citazione preferita di Nico Come ci è arrivato questo qui Meno male non M'ha preso Vai Vai giù Oh Che bello Che bello Che bello quando la violenza Devi applicare la logica Io adoro troppo Magari vorrei evitare di morire Perché se no tutto da capo Poi sono cazzi amari Ok Primo furgone Eito Che ha parlato Che ha quello sporco lurido Che ha parlato Ah tu hai parlato Destroy the stuff Si I destroy the stuff I'm sorry man Anzi Così è più bellina Dato che l'ho comprato Boom Anche il muletto Facciamo una cosa fatta bene Facciamo fuori tutto Uno Due Suonala la musichetta Suonala Ragazzi perfetto Non posso uscire però Un po' devo prendere il muletto Ma l'ho distrutto A posto ragazzi Ci hanno lasciato anche una mutina Perché non prenderla Siamo vicini a casa Sì dai Che bella missione Devo essere sincero Non me la ricordavo per niente Ma veramente Penso che sia Una delle mie preferite Che abbia incontrato finora Questa insieme Veramente altre poche Minchia che missione A posto Bene ci siamo Io qua ragazzi vi saluto Grazie della visione Lasciate il like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Alla prossima Con la 79esima Catch the wave E sarà per Phil Bella Bacione ragazzi Ciao